Perché lei ricerca il favore imperiale? Anni orsono la mia gente è stata come cancellata. La mia ira mi rende immensamente forte. Ed è questa forza che posso offrire all'Impero. Offerta accettata. Sono qui per darti un'opportunità, Barris. Tu ringrazia di non essere più una Jedi. Sembra che il tuo cammino sia segnato, Morgan Hemsworth. Io intendo compiere il mio destino. La pietà genera la sconfitta. Ma io ti aiuterò a superare questa debolezza. Attacca! Hai detto che l'Impero ci avrebbe aiutato a cambiare le cose. Dovreste saperlo. Tutto a un prezzo. No! Il mio mondo non fa che bruciare. Da quando ero bambina. Non puoi fermare ciò che è iniziato. Ora dovrete affrontare un esame finale. E potrete unirvi a noi. È il momento di conoscere il vostro nuovo maestro. Lunga vita all'Impero. Lunga vita all'Impero. Sono qui! Andere. È il momento di conoscere il nostro Paese. Lunga vita all'Impero. È il momento di conoscere il nostro Paese.